Piazza Regina Margherita in centro ha un nuovo volto da qualche giorno, così come Largo Tunisia e così come la facciata che ospita la Fontana del Nettuno che è stata completamente riqualificata. Interventi finanziati interamente dalla Fondazione Carispac che li ha realizzati in collaborazione con Comune e Soprintendenza. Il progetto di riqualificazione è stato donato dallo studio di Ingegneria e Architettura Due Studio, redatto dagli ingegneri Francesco Giancola e Alessia Rossi, mentre il progetto di restauro della facciata con la Fontana del Nettuno è stato elaborato da Letizia Tasso e Fernanda Martinez donato dalla Sovrintendenza. Interventi importanti per la valorizzazione del patrimonio culturale aquilano realizzati in tempi record. In questo modo sono stati riconsegnati alla città degli spazi importanti per la socialità. Infatti la piazza in questo weekend ma anche oggi era piena, anche se non manca qualche polemica. C'è chi ad esempio non ha gradito i lampioni. Ma questa è cosa nota, ad ogni restyling ci sono i favorevoli contrari, ma non si può negare che il colpo d'occhio straordinario e la piazza finalmente fruibile a tutti. Non bisogna dimenticare infatti lo stato in cui versavano questi luoghi prima, ridotti prevalentemente a parcheggi senza vita. La fondazione da subito ha pensato che dovesse restituire alcune realtà importanti alla città. La prima porta Napoli, l'ingresso alla città e poi tutto quanto il resto. Il palazzo dove oggi c'è la fondazione penso che sia uno dei più belli dell'Aquia e quindi è stato ristrutturato anche dalla fondazione. e poi abbiamo pensato che oltre al parco, che è stata anche un'opera della fondazione, questi spazi così importanti dovessero essere restituiti alla bellezza. Ci ricordiamo come erano questi spazi qualche giorno fa. Qui addirittura era ricettacolo di immondizie e in altri posti soluzioni di parcheggi selvaggi. Una osservazione la mandiamo da qui anche a chi fruirà di questi spazi, adeguarsi nella bellezza che abbiamo voluto ridare a questi spazi e quindi anche i bar, i tavoli, i ristoranti, delle cose belle che facciano di Aquila, il capoluogo della regione Abruzzo.